La pandemia di Covid-19 ha stravolto in modo radicale la quasi totalità delle attività umane, oltre al mondo del lavoro, quello della scuola, che ha dovuto fare conti in tempi brevissimi con nuove metodologie didattiche. La didattica a distanza è ormai entrata a far parte della quotidianità di molte famiglie e anche il mondo dell'università ha dovuto adeguarsi alle regole imposte dai decreti. E così capita che la tesi si debba discutere in questo modo, seduta in salotto davanti allo schermo del computer. È il caso, tra i molti, della neodottoressa Sara Contino, iscritta alla Facoltà di Architettura di Firenze, che ha conseguito in questo modo l'attestato, discutendo la sua tesi con i relatori, i professori Lamberti, Matteini e Lorusso, in videoconferenza. È stata un'esperienza un po' scioccante di primo acchito, in quanto comunque facendo un tipo di facoltà che prevede l'interazione con le tavole e il plastico in maniera consistente, ovviamente non avere sia la presenza della Commissione in maniera fisica e soprattutto non avere un feedback diretto di quello che la Commissione prova, manca un po' di umanità in qualche maniera. Però non è mancata di pathos, in quanto le emozioni sono comunque forti e la validità del momento è comunque importante. Ho preso 110 in lode e mi è stata anche data la dignità di pubblicazione. Niente strette di mano, baci accademici dunque, ma in ogni caso una bella soddisfazione che ha ripagato dell'impegno profuso durante gli anni universitari. Sì, esatto, senza i filtri dati dalla situazione, con lo stesso metodo di giudizio che si sarebbe utilizzato normalmente.